Arezzo fascista e viva Hitler, queste le scritte inquietanti che sono comparse in questo parco pubblico. Ci troviamo in via Leone Leoni, quindi in pieno centro ad Arezzo. Alla mia a destra c'è il liceo scientifico Francesco Redi, liceo che viene separato da questo parco, da questo muretto. Alla mia a sinistra invece c'è la caserma della Polizia Stradale di Arezzo, un parco che sicuramente ha sempre avuto alcune frequentazioni piuttosto discutibili. Ricordiamo che proprio in questa zona ci sono state diverse retate da parte delle forze dell'ordine per lo spaccio e il consumo della droga. Ora appunto diventa anche luogo di apologia del fascismo perché di questo si tratta. Le due scritte Arezzo fascista sono comparse, una qua, la vediamo benissimo, c'è proprio la scritta e poi anche una svastica. E in questo palo invece dell'illuminazione pubblica, ecco Arezzo fascista, eccola qua scritta in verticale e poi la svastica. Se poi andiamo invece a quest'altra colonnina, tra l'altro il parco è quasi tutto disseminato appunto di scritte, e comunque imbrattato con appunto le vernici, leggiamo molto molto bene, viva Hitler, anche in questo caso scritto in verticale. Eppure insomma gli altri graffiti che vediamo proprio nel muro che divide il parco dal liceo, sicuramente ci sono insomma immagini ben diverse appunto dall'apologia del fascismo e dal fatto ecco di inneggiare al nazismo, ci sono insomma immagini di pace, immagini di popoli che si abbracciano. Noi insomma vogliamo sperare che sia davvero stato il gesto insomma di un pazzo, di uno che comunque appunto pensa in questa maniera di etichettare la città di Arezzo e vedremo quello che insomma decideranno di fare soprattutto le istituzioni visto che in questo caso si tratta di un parco pubblico.